Mario, come sei la situazione in Corriera? Viena! Attenzione al gruppo di Craxon! Due! Due signorine qua, fai montare davanti! Non ho poco! Non ho poco! Non ho poco! Non ho poco! Maaah! Ciao, primo! Ah, adesso te lo chiedi, ciao, ciao! Marco, come sei la situazione in Corriera? Eta! Non ti attretta! Non ti attretta! Non ti attretta e voglia! Aha! Ahah! Devo murovi tutte le gambe Intro! Stentando suода come a me! Oh life! Beh.. Via aqui! Mi ha felice da scatare si era oltre sonora! Un cartello snevorile! A là che si trdevoli! Che si trituose! Allora, calmo, calmo! Si i nonni non mes expansi a sanga! Quindi, quando ci saranno più ci靡i che tags, Allora, non so! Ogni anno più ciò più la sicurezza, Ok, ecco! Qua d'ora non torna? Ti ho detto che è il 52, gammano S4, 39 Mi sta un porco Mi sta un porco No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mi hai scusato ancora No, 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 no Ma ci fate 4 volte Che belgis è No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Tira su una da 90 ora No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 che cosa vuoi fare? che cosa vuoi fare? che cosa vuoi fare? che cosa vuoi fare? dai non vuoi fare il giorno buon cosa prevenite a due euro 12 euro 5 business sei che è proprio il fumo che è io ma tuu non sei che vuoi prevenite oh che cosa vuoi che cosa vuoi? oh dai il microfono qui vuoi prevenite che vuoi prevenite vai salio vai salio funziona il microfono, ti sto? io ti dammi qua, dammi qua ah sei stare ma dimmi dire che vuoi stare a prevenite e parli a voi ci direi becca becca ciao 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 vai qui è a maibu maibu ciao